All'imbocco di questa peaggia io penso che Peppino Impastato sia stato fermato dai suoi assassini che erano in agguato e poi portato sul posto in cui è stato massacrato. Peppino ogni tanto aveva l'abitudine di fermarsi proprio all'inizio del molo, prima di andare via di mettere i piedi in acqua o in ogni caso per lui era una sorta di purificazione. Ogni mattina prima di andare al lavoro avevo questa abitudine di venire a dare un'occhiata al mare. Ci vedevo quasi sempre un pescatore seduto, assorto a guardare in profondità. Abbiamo fatto amicizia, si chiamava Pietro, era uno che aveva una barchetta con un motore, riusciva a sopravvivere con tutto quello che pescava. Del mare sapeva tutto, lui la prima volta che ci siamo visti mi diceva, professore perché mi conosceva, lei legge i libri e io leggo il mare. Mentre dall'altra parte c'è un fenomeno iniziato in parte con i film cento passi. Io non sono tra di quelli che criminalizzano il film, assolutamente. Però il film è fiction, inevitabilmente fiction significa ricostruzione di alcune cose ma non significa documentario preciso. Quindi di là già ne viene fuori un Peppino, sì impegnato, ma sembra che il suo unico impegno sia la lotta alla mafia. Peppino invece era un intellettuale a 360 gradi, noi ci occupavamo di tutto, da Che Guevara alla Cina, a tutto quello che succede nel mondo. E avevamo le nostre chiavi di lettura di tutto questo. Fra l'altro Peppino non è solo uno che abbaia la radio, ma è anche un continuo organizzatore di iniziative. Peppino è uno che cerca consenso e cerca di comunicare quello che ha dentro per costruire insieme. Questo tipo di lavoro non sembra che il film venga fuori. Io mi rendo conto che ci sarebbero voluti due o tre film per avere un'idea completa e fra l'altro ci sarebbe voluto un testimone diretto, mi potrei dire ma c'eri tu. Ma io ho scritto il mio libro e l'ho lasciato come eredità a chi vuole conoscere Peppino. Però devo dire che ci sono tanti che dicono di averlo letto e non lo hanno mai letto, come tutte le mie cose e come in genere tutto quello che viene scritto. Non me ne ha tonto.